Ora si registrerà la conferenza. Buona domenica a tutti e benvenuti a questa puntata di N strategie di investimento che si apre sulla home page del nostro sito si apre e si chiuderà sulla home page del nostro sito nel quale però i contenuti sono molti il vero problema è che dal 2022 la società ha deciso di postare tutti i propri prodotti e servizi esclusivamente soprattutto quelli operativi e di analisi operativa esclusivamente nelle aree riservate quindi nella pagina analisi che era quella che più delle volte tutti coloro che godevano dei servizi free utilizzavano non verranno più postate analisi propriamente operative ma così come abbiamo fatto negli ultimi tempi ad esempio l'introduzione alla semiottica tecnica ci saranno forse sì anche delle analisi ma saranno analisi molto posteriori e quindi dal punto di vista operativo non avranno alcun valore mentre ne avranno molto dal punto di vista teorico poi la teoria si trasformerà in pratica esclusivamente nelle aree riservate il cui accesso però come vedete è consentito da qui soltanto a coloro che dispongono di un'area qui vedete è la mia se volessi ci potete entrare ma non ci entro in questo momento ritorno nuovamente in home page e però aggiungo che per consentire un po' a tutti di usufruire comunque o perlomeno di comunque testarli i nostri servizi abbiamo fatto una scelta è il primo anno che la facciamo abbastanza inconsueta nel nostro settore ma che però confidiamo che possa essere di gradimento da un lato a tutti e soprattutto non dovrebbe essere di ostacolo a noi ed è la scelta dei soddisfatti o rimborsati in buona sostanza un'area riservata per sei mesi sul nostro sito costa solo 122 euro il che vuol dire 0,65 centesimi al giorno praticamente nulla rispetto a quello che noi facciamo ma ci rendiamo conto che poi quei 122 euro non vengono versati come 65 euro scusate 65 centesimi al giorno ma è tutto un blè e quindi per tutti coloro che avranno voglia di aderire ai nostri servizi o semplicemente di provare i nostri servizi forniremo una garanzia di rimborso integrale del bonifico che ci è stato affettuato attenzione entro il 10 di gennaio tutti coloro che faranno il bonifico entro il 10 di gennaio avranno la possibilità di cedere da questo contratto da questo vincolo in qualche maniera entro il 25 di gennaio e sarà la nostra premura a seguito ovviamente di notte al credito ma di rimborsare attraverso il nostro bonifico entro il 31 gennaio l'importo che ci è stato versato ovviamente ci dovranno dare l'Iban su cui noi dovremmo fare il bonifico ma insomma la prassi è questa siamo convinti che in realtà coloro che accetteranno di aderire ai nostri servizi attraverso l'area riservata alla fin fine poi non molleranno nel senso che porteranno avanti per il costo così esiguo il rapporto fino alla sua naturale scadenza e sarà il 30 di giugno però siccome non abbiamo la possibilità di fare vedere tutto quel che produciamo perché ovviamente quel che noi produciamo in quel che noi produciamo ci sono compresi anche dei portafogli in corso quindi non possiamo mettere a disposizione le nostre scelte operative tutti i portafogli sono 12 più 4 standard che sono legati praticamente a una valutazione diciamo di di importanza generalista cioè nel senso che all'interno di questi ultimi 4 portafogli normalmente viene inserito quel che tutti normalmente vanno a guardare ovviamente ogni portafoglio non contiene più di 7 posizioni quindi noi abbiamo fatto una scelta tra quel che tutti vanno a guardare e quella che ci sembrava la più opportuna non abbiamo fatto una scelta casuale però diciamo che questi sono portafogli più che altro standardizzati mentre per segliati sono non solo standardizzati lì si è fatta proprio una scelta operativa particolare legata alla semiottica tecnica e a prova di semiottica tecnica ad esempio oggi noi abbiamo postato il primo servizio di semiottica tecnica reale dove è un servizio in Excel dove praticamente e l'abbiamo postato sui mercati finanziari in generale sono circa 350 i mercati che possono essere analizzati con questo servizio in Excel in cui vengono fornite previsioni a due settimane barra tre previsioni su quello che potrebbe essere proprio quel che potrebbe accadere si tratta ovviamente di previsioni che hanno un contenuto di probabilità molto alto aggiungo anche perché è giusto saperlo che proprio perché hanno un contenuto di probabilità così alto difficilmente si concretizzeranno nel pieno di quanto indicato tuttavia è vero che si possono utilizzare quelle stesse indicazioni più probabili come parametro per vedere che cosa accade attorno alle stesse e per poterlo fare al meglio normalmente si ricorda un secondo strumento che non è di previsione ma di ricerca strumento però che è un po' più particolare di questo sulle previsioni e questa previsione è molto semplice perché basta semplicemente inserire con un comando a tendina l'indice per capirci il future che si vuole seguire e fa tutto in automatico mentre invece quello di ricerca richiede una maggiore collaborazione da parte dell'utente finale e quello lo distribueremo soltanto in un secondo tempo lo utilizzerò io nei miei video per far vedere come si usa è evidentemente è un è un un servizio che però consente di portarsi molto avanti rispetto a quello che è lo standard consueto aggiungo per coloro che hanno svolgito sin qui soltanto della nostra pagina analisi che in introduzione alla similatica tecnica si è mostrato un grafico point and figure e una serie di indicatori legati a quest'ultimo vorrei far presente a tutti che fare un grafico point and figure su Dow Jones come quello mostrato con questa puntualità non è così semplice i grafici point and figure non sono automatici bisogna individuare con diciamo pazienza certosina e precisione millimetrica praticamente la dimensione del box poi a tutto il resto certo ci pensa il grafico individuando soltanto le cose che accadono ma la qualità del grafico dipende esclusivamente dal box che viene scelto e per scegliere un box come quello che si può vedere in questi grafici vi assicuro che il lavoro non è stato di poco conto così come non è stato di poco conto costruire gli oscillatori che lavorano attorno allo stesso perché i grafici point and figure in linea teorica aboliscono il tempo ma non è proprio così come viene spiegato e quando abolite il tempo un oscillatore che invece lavora sul tempo prenderebbe gran senso e invece come si può notare non perde affatto gran senso chi lo può guardare può individuare come noi abbiamo sempre avuto un approccio molto ottimistico sul mercato proprio in funzione di questo nostro grafico e dei vari oscillatori che facevano riferimento Aldo Jones poi ne abbiamo ovviamente altri che non fanno riferimento esclusivamente Aldo Jones ma quelli eventualmente sono per noi per la nostra operatività non li mostreremo perché se no è evidente mettiamo a disposizione di tutto di tutti a quel punto il costo non può essere più di solo i 122 euro ma forse di migliaio di euro per poter fare questo perché la gente pensa sempre che tutto possa essere gratuito ma di gratuito in realtà quel che costa niente perdonateci non vale praticamente niente mentre invece quel che costa vale e noi siamo convinti che quel che noi facciamo valga e valga la pena acquistarlo attraverso una riservata ovviamente dando questa possibilità del soddisfatto ai rimborsati diamo la possibilità di provare quel che noi facciamo ma siamo così convinti che dopo averlo provato la stragrande maggioranza di coloro che avranno aderito questa offerta nello stesso parola finiranno per mantenere l'offerta valida fino alla sua scadenza con questo mi fermo ovviamente per tutti coloro che ad esempio questo questo video l'avete trovato in analisi potete vi invito a guardare poi le altre pagine per capire i contatti vi daranno la possibilità di contattarci nella vero stessa parola per tutti coloro che vogliono sapere più del soddisfatto rimborsati ma in fondo non è altro che quello che vi ho descritto noi prepareremo a coloro che vogliono aderire ai nostri servizi prepariamo una nota a pro forma inviamo una nota a pro forma con tutti i dati ovviamente fiscali di coloro che vogliono aderire al servizio ci saranno i nostri dati bancari una volta avvenuto il bonifico non è che avete bisogno di dirci che volete aderire alla campagna come soddisfatto rimborsati se volete lo potete mettere ma è del tutto indifferente l'importante sappiate che questa campagna si chiude il 25 di gennaio quindi tutti coloro che entro il 25 gennaio hanno manifestato la loro intenzione di sciogliere il contratto scioglieremo il contratto a partire dal 26 di gennaio e dentro la fine del mese riceveranno un bonifico ad accredito di quanto bonificato a loro volta verso di noi all'inizio dell'anno con questo mi fermo auguro a tutti ovviamente un buon anno e quando sarà per coloro che non ci vedranno tutti i giorni diciamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti